Abbiamo lavorato seriamente e devo dare atta anche all'opposizione su un ordine del giorno molto importante per quanto riguarda il fronteggiare di questa crisi in questa provincia di Frosinone che stiamo portando avanti con grande interesse nel cercare di far inserire la provincia di Frosinone tra le aree di crisi, quindi la priorità di questa amministrazione provinciale è lo sviluppo e l'occupazione. Su questa linea stiamo lavorando seriamente, tant'è che oggi ho partecipato a un sit-in e l'onorevole Foglietta non c'era, davanti al Parlamento per difendere, per dare la solidarietà agli operai della Videogon che entro oggi devono trovare il partner che rilevi questa azienda altrimenti da dopodomani saranno tutti a casa. Quindi queste sono le azioni che noi stiamo mettendo in campo e questi sono i punti di riferimento dell'amministrazione provinciale. Per quanto riguarda la sua appartenenza all'Udc, per quanto riguarda le sue alleanze, io non sto contestando questo, sto solo dicendo tra l'altro con Alessandro mi lega un rapporto di grande simpatia, di grande lavoro fatto insieme e quindi non discuto minimamente il suo atteggiamento, io dico semplicemente una cosa, che è arrivato il momento di fare chiarezza, di fare chiarezza di una scelta politica e non si può fare un'alleanza nel Lazio con il centro-destra e un'alleanza in Campania con il centro-sinistra, significa che manca una strategia di una visione nazionale del partito dell'Unione di centro, questo è fuori discussione. Foglietta quindi ci dice Abruzzese, di fronte all'ordine del giorno sulla crisi industriale in provincia, voi stessi avete votato a favore, quindi non è vero che non stanno facendo nulla e poi l'accusa di incoerenza politica a livello nazionale perché da una parte andate in una direzione e da una parte nell'altra. Prego. Allora simpaticamente dico all'amico Abruzzese che qualcuno mi insegnò tanti anni fa che un ordine del giorno non si nega neanche al peggior nemico, giustissimo un ordine del giorno. Quindi non vale nulla per l'ordine del giorno. Ma è riferimento allo sviluppo, voglio capire concretamente quello che si sta facendo, ecco poi mi rimprovera di non essere stato al sit-in, io ho partecipato in tante occasioni a manifestazioni che si sono fatte per la Videocolor e Videocom e oggi l'amico Abruzzese non c'era, ma io non mi sono mai permesso di dirlo perché vivo anche la politica in un modo diverso. In un modo diverso, quindi dico che la Teresa Formisano ha fatto una serie di interventi per la Videocom molto interessanti perché ha cercato realmente di sviluppare un rapporto per capire se ci fossero veramente le condizioni di fare qualcosa di concreto. Ecco noi diciamo oggi, a prescindere poi di quello che si può dire una provincia che non va, una provincia che non va lo ha affermato lo stesso Abruzzese nel momento in cui dice stiamo lavorando e Foglietta non sa, non conosce probabilmente che ci siamo trovati in una condizione di difficoltà, ci mancherebbe altro. Io non difendo minimamente, lo dico all'amico Abruzzese, quella che è stata la politica del centro-sinistro. No, ma sai gli accordi purtroppo nel momento in cui si fa politica si verificano determinati fatti e condizioni di accordi che si possono fare quando si arriva ad un ballottaggio dove il dato elettorale del 13% del terzo polo è stato un dato elettorale eclatante sotto tutti i punti di vista, riconosciuto da tutto il mondo, tutto il mondo sociale ovviamente. Perché non avete fatto l'accordo col centro-destra in quell'occasione? Ma guarda, con molta serenità c'erano le condizioni, c'era la possibilità, probabilmente ci sarebbe stata anche un'affermazione. Loro non l'hanno firmato, sentiamo perché non l'hanno fatto loro. Ma lui non dice la verità, non l'hanno fatto per l'odio e rancore che hanno nei confronti del centro-destra. Sentiamo la versione di Foglietta. No, io non ho rancore, soprattutto nei confronti del centro-destra. Ci stava dicendo che c'erano le condizioni per farlo anche. Ci potevano anche essere le condizioni, probabilmente si è pensato in quella fase di poter ricreare una condizione di governo insieme a chi aveva governato e probabilmente, con molta serenità lo dico, aveva governato male. C'è stata quella situazione, si è proceduto e l'errore lo dimostra il risultato elettorale. Io non mi nascondo mai dietro un dito, cerco di essere sempre onesto con me stesso e onesto con gli altri. Era scettico. Era scettico allora perché ritenevo che effettivamente, soprattutto per il sottoscritto, le difficoltà sarebbero state enorme. Però io vorrei superare il discorso del ballottaggio perché altrimenti torniamo a 5 mesi prima, sono disponibile in tutti i momenti a farlo, non ho problemi. Io voglio fare un ragionamento oggi della situazione che stiamo attraversando, augurando veramente di cuore ad Antonello Iavannarilli di cominciare a governare questa provincia. purtroppo non lo sta facendo. Foglietta, su questo argomento voi siete all'opposizione in provincia. Cosa vi separa? Visto che provenite comunque da una formazione che per anni ha governato con il centro-destra, cosa vi separa dal PDL? Un atteggiamento di arroganza di tante persone all'interno del PDL. Un atteggiamento di presunzione non da parte probabilmente del capogruppo, ma quello che è successo qualche giorno fa. Rappresenta il gruppo, non personalmente. Sì, sì, ma quello che è successo qualche giorno fa. Esempio? Quello che è successo nella famigerata crisi, che poi ci è bastata una polentata per chiudere una crisi, e questo è un fatto simpatico, perché è una polenta che aiuta a digerire. Perché generalmente noi il vecchio tetto... Di solito la polenta pesantisce, non? Il vecchio tetto si diceva, è pesantisce, invece ha aiutato a digerire. Ha digerito una situazione dove lo scontro è stato uno scontro duro, dove Antonello Iannarilli non ha fatto cosa di poco conto nel momento in cui ha revocato tre assessori, le dele che qualcuno mi potrebbe dire, tre assessori di ex alleanza nazionale. Quindi io credo che il messaggio che Foglietta, da uomo politico, da uomo del territorio, che ha un incarico da sindaco, che cerca anche di avere qualche rapporto, magari spero un giorno che l'amico Mario Abruzzese venga a trovarci, l'ho chiesto al Presidente, spero che qualche volta può pensare che esiste un paese che si chiama Subina, governato dall'ex onorevole Alessandro Foglietta, di andare effettivamente a comprendere fino in fondo quali sono le possibilità che possiamo dare a questo territorio. Lo sviluppo è un discorso concreto, ma dobbiamo parlare di infrastrutture, dobbiamo parlare di una capacità a svolgere un'attività senza pensare a qualcuno che ha la presunzione di essere diventato Nembo Kid. Mi riferisco a qualcuno che potrebbe essere il Vice Presidente, magari, non so di cosa. Appena detto Foglietta, non ci troviamo nelle posizioni del PDL perché il PDL è stato governando con arroganza, ce lo dimostra la crisi risolta poi con una polentata, ha serie perplessità sul ruolo del Vice Presidente della provincia, lei essendo capogruppo quindi ha competenza anche sul ruolo, sulla figura del Vice Presidente che impuota al PDL, dice vogliamo anche elementi concreti sulle infrastrutture, lei come Presidente del Cosilam ha in mano il progetto sulla logistica. Cominciamo sull'arroganza. No, lui non può parlare del Cosilam oggi. Facciamolo parlare come candidato. Questo me lo lasci, questo me lo lasci. Allora, arroganza. Ma io faccio ogni tanto qualche provocazione simpatica. Ma intanto si evince con tanta chiarezza che all'interno di Alleanza Nazionale c'è stata un po' la resa dei conti, perché quando Alessandro Foglietta mette in risalto alcune cose, fa emergere il grande scontro che c'è stato all'interno di Alleanza Nazionale nelle ultime elezioni provinciali. Per quanto mi riguarda c'è un'apertura totale, Alessandro, me lo riconoscono anche i gruppi di minoranza all'interno del Consiglio provinciale, un centrodestra aperto, un centrodestra capace di ascoltare, di recepire istanze e proposte che vengono dalla... Ma mi dici perché non si fa l'Ambria? Un attimo solo. Mi dici perché non si fa l'Ambria? Per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda il ritardo di questa provincia, scusatemi, ma questo lo dovremmo chiedere al centrosinistra che ha governato per 15 anni l'amministrazione provinciale. E qualcosa anche Alessandro Foglietta che ha governato alla Regione per circa 15-20 anni, ha fatto il parlamentare europeo. Certamente non lo possiamo addebitare ad una classe politica che ha preso il timone della provincia da solo sei mesi e in sei mesi dovrebbe risolvere tutti i problemi delle infrastrutture in questa provincia. Cioè gli annadilli vivono un altro mondo. Certamente stiamo pagando un prezzo molto alto e lo abbiamo dimostrato anche sulla presa di posizione dell'aeroporto di Frosinone, quando si è trattato di decidere di continuare o sospendere questa azione forte e responsabile nei confronti del territorio, il gruppo e poveri libertà ha sostenuto con forza una iniziativa ancorché iniziata dal centrosinistra, tant'è che quando la Regione ha chiesto di essere inserito tra i soci fondatori dell'ADF, Antonello e Annarilli ha preso tempo per riflettere, ma nessuno ha mai bloccato questa importante iniziativa, questo aeroporto regionale che potrebbe dare veramente lo sviluppo serio a questa provincia.